Qual è l'ultimo prodotto o servizio che hai comprato? Dimmi, qual è l'ultimo prodotto? Pensaci un secondo. Ok, ce l'hai? Molto bene. Qual è l'ultima cosa che ti ha convinto prima di comprarlo? Cos'è stato quel goccino che ha fatto traboccare Uvaso? Pensaci, è molto interessante. Cialdini direbbe che non ti hanno persuaso, ma ti hanno presuaso. E bleh, 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 avete presente il priming, eccetera, eccetera. E tutto quello che viene prima rispetto a un acquisto. Lo trovo molto interessante perché siamo circondati da triliardi, cazzigliardi, fantastigliardi di pubblicità e di spesa messa lì soldoni esclusivamente per convincerci a comprare un prodotto, a comprare un servizio, a votare per qualcuno, a cambiare la nostra idea, a fare qualche cosa. Soldi, soldi, soldi buttati online, ma anche offline, per convincerci ogni giorno. Noi siamo circondati da una marea di figli coglioni che cercano di convincerci a comprare qualcosa. E se uno non ci fa attenzione, non si rende neanche conto del perché ha comprato qualcosa. Vi faccio un esempio, io ho comprato adesso una corda per saltare. Volevo la corda, insomma, per saltare, non ce l'ho più, sei rotta, non so, sei staccato il manico. A voi capita, sei staccato il manico. E allora, girando online, alla fine ho comprato sta roba, che ho speso un fantastrigliardo, che è tutta una corda connessa. Adesso la proverò e vi farò sapere se è una fufata oppure se è una roba interessante. Però mi sembrava carina. Perché sono arrivato a comprare quella roba lì? Io non volevo mica comprare la corda mega gigantesca, volevo comprare una cordina per saltare tranquillo in giardino. Sono una roba di questo tipo. Però sono arrivato a fare un acquisto completamente diverso, anche come filosofia, molto più professionale, molto più tech. Cos'è che mi ha convinto? Boh, ho iniziato a girellare, ho cominciato a vedere qualche video, probabilmente su YouTube, qualche tizio che rispetto, dal punto di vista del fitness, così probabilmente ha detto ah, ho provato sta corda, poi magari in un podcast è stata citata, ho fatto una ricerca, poi magari sul sito ho dato un occhiato, ho visto ah no, però hai visto buoni certificati di qualità. Recensioni, nel mio caso, sono inutili, non guardo mai le recensioni perché sono pura invenzione, pura fantasia. Però devo dire che se faccio la lista della spesa, ci sono stati tanti elementi che mi hanno convinto. e sapere quali sono gli elementi che fanno più leva su di noi, sono diversi quelli che fanno leva su di me rispetto a quelli che fanno leva su di te, è interessante approfondirlo per farsi intortare un po' meno. Che cosa ti convince di più? È stato un testo, come è stato scritto quel testo, magari su un sito web, sono state delle immagini che sono state utilizzate, i testimonial che sono stati usati, dei personaggi che tu stimi, che a quel punto hanno influenzato la tua decisione, è quello che ti dice la tua dolce metà o i tuoi figli che ha un peso e a quel punto hai comprato perché vabbè me l'ha detto mia moglie, me l'ha detto mio marito, che cosa ci spinge a comprare? E di recente ho visto anche questa serie The Shrink Next Door con Paul Rudd, non so come si pronunci, Rudd o Rudd, che è uno dei miei attori preferiti peraltro, bravissimo, e Will Ferrell, ed è una storia vera, ispirata a questo psichiatra, che abusa della sua situazione con i pazienti per averne un'utilità. E il modo in cui l'hanno costruita, il modo in cui lui parla, girando sempre a favore del paziente, delle scelte che poi sono nel suo interesse, l'ho trovata molto molto ben fatta, e identifica tutte quelle persone e o aziende che parlano sempre nel nostro interesse, ma l'unico interesse è loro, ma tutte le parole, la gestualità, il racconto, lo storytelling, è gestito per far sì che noi ci convinciamo da soli, non dobbiamo essere convinti, arriviamo al punto in cui diciamo, no, ma non vedo l'ora assolutamente di comprare la mia cordina saltante sull'orto ecologica, non posso farne a meno, adesso poi la sto aspettando con quello che ho speso, non vedo l'ora che arrivi, almeno la metto, non so, in cassaforte, perché compro una cassaforte apposta per metterla a corda. Dai, prova a pensarci e scrivi nei commenti che cosa ti ha convinto prima dell'acquisto che hai fatto dell'ultimo prodotto o servizio. In generale, lo sforzo che voglio fare è quello di avere un valore aggiunto di pensiero, più attenzione, ecco, alla Jason Bourne, più attenzione, prima di comprare che cosa succede, che cosa mi ha convinto, e poi decido. Non è che non voglio più comprare niente, ma voglio essere in controllo, più in controllo della possibilità di fare acquisti. Serve più pensiero, ma sapete come dice il saggio Yoda, poi ci vediamo una pirupiroda, pensare troppo fa male, ma non farlo è molto peggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.